E' col destro! Che gollo! Colotto! Che gollo! Col destro! Che gollo! Buonasera, siamo in una partita tra Atletico Calella e Atletico Madrid, partita finita 5 a 1 per l'Atletico Calella, siamo chiudono il migliore in campo, De Luca con la medaglia di migliore in campo, andiamo da Ugo Roma, giocatore no acquisto dell'Atletico Madrid. Ugo, brutta partita per voi, cosa mi dici? Una partita no, dove la squadra non c'era proprio, non c'era gioco. Si deve mettere un po' a posto la squadra in generale, ma soprattutto la difesa, perché quelli che dovrebbero difendere spesso stanno in avanti e poi si prendono tanti gol. Ok, un saluto? Saluto a tutti i organizzatori che mi avete chiamato, saluto agli old friends della Super Cup, ci vediamo, buone vacanze a tutti quanti. Ok, auguri anche a te, ci vediamo alla prossima. Andiamo ora da De Luca, De Luca una grandissima partita per voi, 5 a 1, cosa mi dici? Eh vabbè, da quello che ho capito la squadra era nuova, quindi magari non ci conosceranno bene, erano disordinati, quindi ci hanno lasciato molti spazi. Quelli con cui ci conosciamo bene, abbiamo approfittato la maggior parte delle occasioni. Che dici, quest'anno quest'Atletico Calin può puntare alla vittoria della Snow Cup? Se ci impegniamo, se ci impegniamo. Non dobbiamo fare gli errori che abbiamo fatto la settimana scorsa, vediamo. Ecco, Olmo, qualche hai da dire? Ti credo critico. No, io ti ho sempre detto che noi possiamo anche vincere questo torneo, perché le uniche partite che abbiamo perso sono delle partite in cui non c'erano dei giocatori importanti, quindi ce la giochiamo con tutti. L'unica cosa è che a volte abbiamo dei blackout, come la settimana scorsa, appunto, abbiamo pareggiato una partita che si doveva vincere. L'importante è poi non fare questi cali di tensione quando saranno le partite decisive. Diciamo che la qualità c'è, qualità individuale ci sono, è davvero un peccato se non andate avanti nel torneo. Sì, infatti se vuoi dire, due partite che abbiamo perso, c'è una verità a Bellini, tipo persone come Silvio, come lui, per me sono fondamentali. Più di quanto lo sia io, secondo me, pesano. Ok, una dedica speciale? Una dedica a nessuno, auguri di buon Natale, grande assist di Alessandro. Edica Alessandro che mi ha fatto l'assist. E anche il suo. Va bene. Dichiamo agli assenti di oggi. Gli assenti di oggi, buon Natale. Capitano e buon Natale. In bocca a lui il presidente del torneo e auguri di buon Natale. Ciao a tutti. Ciao.